L'assessorato regionale alle attività produttive ha concesso un contributo a fondo perduto di 3.700 euro per 319 piccole imprese che fanno parte del gruppo di azione locale Terre del Nisseno. Il contributo è stato concesso alle imprese in possesso di speed e firma digitale con meno di 10 dipendenti con un fatturato non superiore ai 2 milioni di euro e con regolarità contributiva. In particolare il contributo è destinato alle realtà produttive impegnate in attività manifatturiere, trasporto e magazzino, servizi di alloggio e ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento e del settore turistico. Si tratta di fondi rimodurati dal Gal Terre del Nisseno destinate alle azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo per una cifra totale di 1.200.000 euro, indirizzata sotto forma di contributo a fondo perduto per le piccole imprese penalizzate dall'emergenza sanitaria da Covid-19. La notizia è stata accolta positivamente dai componenti del CDA del Gal, Gianfranco Lombardo, Giovanni Manduca, Luigi Tricoli, Giuseppe Catani e Salvatore Noto, che si sono espressi favorevolmente nei confronti dell'assessorato regionale, del dirigente del servizio Vincenzo Larosa, dei sindaci dei 17 comuni appartenenti al Gal e al direttore dell'ufficio di piano del Gal stesso, Giuseppe Ippolito.